Lei è l'investigatore Merlino Sono io Pedinamento Infedeltà coniugale Inzercitazioni ambientali Devo recuperare una valigetta che mi appartiene La rubata Sottraffa! Ve le hai prese queste? E adesso? Si restituiscono tutti i soldi 39 43 Maledici senza criterio Sembi le estrazioni dell'otto C'era un documento che apparteneva a una persona Mi creda molto importante Se non lo dovesse trovare Questo esercizietto Gli lo può far chiudere in dieci minuti Va bene? Tira fuori la licita Ma cosa cazzo gli consegniamo adesso questi? Stavolta ci sparano Ci serve una preparazione per la pille Alza un po' la ventola Aspetta, resiste, resiste Guarda l'uscita la cabina Eh? Come si dice? Se hai hai Se non hai oi Avverti se tu sei gay No? Se no mi fai fare la figura da cazzo Comportamento clericale Che ci proviene? Ci proviene Ci proviene Ci proviene Porca troia No! Dobbiamo intervenire Ma che cazzo ne so? E allora mi hanno proposto di fare delle foto un po' spinte Anzi più che spinte decisamente porno Ma chi ne è? Guarda che a 19 anni avevo anche i capelli Ma che c'entra i capelli col porno? Non c'avevo solo i capelli Che c'aveva? Ma no ma se devi sulle butande No overstavo A wollen No No Non No 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 No